aprile primavera 1 sabato primo d'aprile tre soli mesi ancora questa è stata una delle più belle mattinate dell'anno io ero contento nella scuola perché coretti mi aveva detto d'andare dopodomani a vedere arrivare il re insieme con suo padre che lo conosce e perché mia madre mi aveva promesso di condurmi lo stesso giorno a visitare l'asilo infantile di corso valdocco anche ero contento perché il muratorino sta meglio e perché ieri sera passando il maestro disse a mio padre va bene va bene e poi era una bella mattinata di primavera dalle finestre della scuola si vedeva il cielo azzurro gli alberi del giardino tutti coperti di germogli e le finestre delle case spalancate con le cassette e i vasi già verdeggianti il maestro non rideva perché non ride mai ma era di buon umore tanto che non gli appariva quasi più quella ruga diritta in mezzo alla fronte e spiegava un problema sulla lavagna celiando e si vedeva che provava piacere a respirare l'aria del giardino che veniva per le finestre aperte piena ad un buon odor fresco di terra e di foglie che faceva pensare alle passeggiate in campagna mentre egli spiegava si sentiva in una strada vicina un fabbro ferraio che batteva sull'incudine e nella casa di faccia una donna che cantava per addormentare il bambino lontano nella caserma della cernaia suonavano le trombe tutti parevano contenti persino starti a un certo momento il fabbro si mise a picchiare più forte la donna a cantare più alto il maestro si interruppe e prestò l'orecchio poi disse lentamente guardando per la finestra il cielo che sorride una madre che canta un galantuomo che lavora dei ragazzi che studiano ecco delle cose belle quando uscimo dalla classe vedemmo che anche tutti gli altri erano allegri tutti camminavano in fila pestando i piedi forte e canticchiando come alla vigilia ad una vacanza di quattro giorni le maestre scherzavano quella della penna rossa saltellava dietro i suoi bimbi come una scolaretta i parenti dei ragazzi discorrevano fra loro ridendo e la madre di crossi l'erbaiola ci aveva nelle ceste tanti mazzi di violette che imbivano di profumo tutto il camerone io non sentì mai tanta contentezza come questa mattina a vedere mia madre che mi aspettava nella strada e glielo dissi andandole incontro sono contento cos'è mai che mi fa così contento questa mattina e mia madre mi rispose sorridendo che era la bella stagione e la buona coscienza re umberto 3 lunedì alle 10 in punto mio padre vide dalla finestra coretti il rivenditore di legna e il figliuolo che mi aspettavano sulla piazza e mi disse eccoli enrico va a vedere il tuo re io andai giù lesto come un razzo padre figliuolo erano anche più vispi del solito e non mi parve mai che si somigliassero tanto l'uno all'altro come questa mattina il padre aveva la giacchetta la medaglia al valore in mezzo alle due commemorative e i baffetti arricciati e auguzzi come due spilli ci mettemo subito in cammino verso la stazione della strada ferrata dove il re doveva arrivare alle 10 e mezzo coretti padre fumava la pipa e si fregava le mani sapete diceva che non l'ho più visto dalla guerra del 66 la bagatella di 15 anni e 6 mesi prima tre anni in francia poi a mondovì e qui che l'avrei potuto vedere non si è mai dato il maledetto caso che mi trovassi in città quando egli veniva quando si dice le combinazioni e gli chiamava il re umberto come un camerata umberto comandava la sedicesima divisione umberto aveva 22 anni e tanti giorni umberto montava a cavallo così e così 15 anni diceva forte allungando il passo ho proprio desiderio di rivederlo l'ho lasciato principe lo rivedo re e anch'io ho cambiato son passato da soldato al rivenditor di legna e rideva il figliuolo gli domandò se vi vedesse vi riconoscerebbe e gli si mise a ridere tu sei matto rispose ci vorrebbe altro lui umberto era uno solo noi eravamo come le mosche e poi sì che ci stette a guardare uno per uno sboccammo sul corso vittorio emanuele c'era molta gente che si avviava alla stazione passava una compagnia ad alpini con le trombe passarono due carabinieri a cavallo di galoppo era un sereno che smagliava sì esclamò corretti padre animandosi mi fa proprio piacere di rivederlo il mio generale di divisione ah come sono invecchiato presto mi pare l'altro giorno che avevo lo zaino sulle spalle e il fucile tra le mani in mezzo a quel tramestio la mattina del 24 giugno quando sera per venire ai ferri umberto andava e veniva coi suoi ufficiali mentre tonava il cannone lontano e tutti lo guardavano e dicevano purché non ci sia una palla anche per lui ero a mille miglia dal pensare che di lì a poco me gli sarei trovato tanto vicino davanti alle lance degli ulani austriaci ma proprio a quattro passi l'un dall'altro figliuoli era una bella giornata il cielo come uno specchio ma un caldo vediamo se si può entrare eravamo arrivati alla stazione c'era una gran folla carrozze guardie carabinieri società con bandiere la banda d'un reggimento suonava corretti padre tentò di entrare sotto il porticato ma gli fu impedito allora pensò di cacciarsi in prima fila nella folla che facea alla all'uscita e aprendosi il passo coi gomiti riuscì a spingere innanzi anche noi ma la folla ondeggiando ci sbalzava un po di qua e un po di là il venditor di legna adocchiava il primo pilastro del porticato dove le guardie non lasciavano stare nessuno venite con me disse a un tratto e tirandoci per le mani attraversò in due salti lo spazio vuoto e s'andò a piantarla con le spalle al muro accorse subito un brigadiere di polizia gli disse qui non si può stare sono del quarto battaglione del 49 rispose corretti toccandosi la medaglia il brigadiere lo guardò e disse restate ma se lo dico io esclamò corretti trionfante è una parola magica quel quarto del 49 non ho diritto di vederlo un po a mio comodo il mio generale io che sono stato nel quadrato se l'ho visto da vicino allora mi par giusto di vederlo da vicino adesso e dico generale è stato mio comandante di battaglione per una buona mezz'ora perché in quei momenti lo comandava lui il battaglione mentre c'era in mezzo e non il maggiore ulbri sagrestia intanto si vedeva nel salone dell'arrivo e fuori un gran rimescolio di signori ed ufficiali e davanti alla porta si schieravano le carrozze coi servitori vestiti di rosso corretti domandò a suo padre se il principe umberto aveva la sciabola in mano quando era nel quadrato avrà ben avuto la sciabola in mano rispose per parare una lanciata che poteva toccare a lui come a un altro ai demoni scatenati ci vennero addosso come l'ira di dio ci vennero giravano tra i gruppi i quadrati i cannoni che pareva molinati da un uragano sfondando ogni cosa era una confusione di cavalleggeri d'alessandria di lanceri di foggia di fanteria di ulani di bersaglieri un inferno che non se ne capiva più niente io intesi gridare altezza altezza vidi venir le lance calate scaricammo i fucili un nuvolo di polvere nascose tutto poi la polvere si diradò la terra era coperta di cavalli e di ulani feriti e morti io mi voltai indietro e vidi in mezzo a noi umberto a cavallo che guardava intorno tranquillo con l'aria di domandare c'è nessuno graffiato dei miei ragazzi e noi gli gridammo evviva sulla faccia come matti sacro dio che momento ecco il treno che arriva la banda suonò gli ufficiali accorsero la folla salzò in punta di piedi e non esce mica subito disse una guardia ora gli fanno un discorso coretti padre non stava più nella pelle a quando ci penso disse io lo vedo sempre là sta bene tra i colerosi e i terremoti e che so altro anche là è stato bravo ma io l'ho sempre in mente come l'ho visto allora in mezzo a noi con quella faccia tranquilla e son sicuro che se ne ricorda anche lui del quarto del 49 anche adesso che è re e che gli farebbe piacere di averci una volta a tavola tutti insieme quelli che si è visto intorno in quei momenti adesso c'ha generali e signoroni e galloni allora non c'aveva che dei poveri soldati se ci potessi un po barattare quattro parole a quattro occhi il nostro generale di ventidue anni il nostro principe che era affidato alle nostre baionette 15 anni che non lo vedo il nostro umberto va a questa musica mi rimescola il sangue parola d'onore uno scoppio di grida l'interruppe migliaia di cappelli salzarono in aria quattro signori vestiti di nero salirono nella prima carrozza è lui gridò coretti e rimase come incantato poi disse piano madonna mia come si è fatto grigio tutti e tre ci scoprimmo il capo la carrozza veniva innanzi lentamente in mezzo alla folla che gridava e agitava i cappelli io guardai coretti padre mi parve un altro pareva diventato più alto serio un po pallido rito appiccicato contro il pilastro la carrozza arrivò davanti a noi a un passo dal pilastro evviva gridarono molte voci evviva gridò coretti dopo gli altri il re lo guardò in viso e arrestò un momento lo sguardo sulle tre medaglie allora coretti perde la testa e urlò quarto battaglione del 49 il re che si era già voltato da un'altra parte si rivoltò verso di noi e fissando coretti negli occhi stese la mano fuori della carrozza coretti fece un salto avanti e gliela strinse la carrozza passò la folle irruppe e ci divise perdemmo di vista coretti padre ma fu un momento subito lo ritrovammo ansante con gli occhi umidi che chiamava per nome il figliuolo tenendo la mano in alto il figliuolo si slanciò verso di lui ed egli gridò qua piccino che ho ancora calda la mano e gli passò la mano intorno al viso dicendo questa è una carezza del re e rimase lì come trassognato con gli occhi fissi sulla carrozza lontana sorridendo con la pipa tra le mani in mezzo a un gruppo di curiosi che lo guardavano è uno del quadrato del 49 dicevano è un soldato che conosce il re è il re che l'ha riconosciuto è lui che gli ha teso la mano ha dato una supplica al re disse uno più forte no rispose coretti voltandosi bruscamente non gli ho dato nessuna supplica io un'altra cosa gli darei se me la domandasse tutti lo guardarono ed egli disse semplicemente il mio sangue l'asilo infantile 4 martedì mia madre come mi aveva promesso mi condusse ieri dopo colazione all'asilo infantile di corso valdocco per raccomandare alla direttrice una sorella piccola di precossi io non avevo mai visto un asilo quanto mi divertirono 200 c'erano tra bimbi e bimbe così piccoli che i nostri della prima inferiore sono uomini a petto a quelli arrivamo appunto che entravano in fila nel refettorio dove erano due tavole lunghissime con tante buche rotonde e in ogni buca una scodella nera piena di riso e fagioli e un cucchiaio di stagno accanto entrando alcuni piantavano un melo e restavano lì sul pavimento finché accorrevano le maestre a tirarli su molti si fermavano davanti a una scodella credendo che fosse quello il loro posto e ingollavano subito una cucchiaiata quando arrivava una maestra e diceva avanti e quelli avanti tre o quattro passi e giù un'altra cucchiaiata e avanti ancora finché arrivavano al proprio posto dopo aver beccato a scrocco una mezza minestrina finalmente a furia di spingere di gridare sbrigatevi sbrigatevi li misero in ordine tutti e cominciarono la preghiera ma tutti quelli delle file di dentro i quali per pregare dovevano voltare la schiena alla scodella torcevano il capo indietro per tenerla d'occhio che nessuno ci pescasse e poi pregavano così con le mani giunte e con gli occhi al cielo ma col cuore alla pappa poi si misero a mangiare anche a meno spettacolo uno mangiava con due cucchiai l'altro si ingozzava con le mani molti levavano i fagioli un per uno e se li ficavano in tasca altri invece li rinvoltavano stretti nel grembiolino e ci picchiavano su per far la pasta ce n'erano anche che non mangiavano per veder volare le mosche e alcuni tossivano espandevano una pioggia di riso tutto intorno un pollaio pareva ma era grazioso facevano una bella figura le due file delle bambine tutte coi capelli legati sul cocuzzolo con tanti nastrini rossi verdi azzurri una maestra domandò a una fila di otto bambine dove nasce il riso tutte otto spalancarono la bocca piena di minestra e risposero tutte insieme cantando nasce nell'acqua poi la maestra comandò le mani in alto e allora fu bello vedere scattar su tutti quei braccini che mesi fa erano ancora nelle fasce e agitarsi tutte quelle mani piccole che parevano tante farfalle bianche e rosate poi andarono alla ricreazione ma prima presero tutti i loro panierini con dentro la colazione che erano appesi ai muri uscirono nel giardino e si sparpagliarono tirando fuori le loro provvigioni pane prune cotte un pezzettino di formaggio un ovo sodo delle mele piccole una pugnata di ceci lessi un'ala di pollo in un momento tutto il giardino fu coperto di bricioline come se ci avessero sparso del becchime per uno stormo d'uccelli mangiavano in tutte le più strane maniere come i conigli i topi i gatti rosicchiando leccando succhiando c'era un bimbo che si teneva appuntato un grissino sul petto e lo andava ungendo con una nespola come se lustrasse una sciabola delle bambine spiaccicavano nel pugno delle formaggiole molli che colavano fra le dita come il latte e filavan giù dentro alle maniche ed esse non se ne accorgevano mica correvano e si inseguivano con le mele i panini attaccati ai denti come i cani ne vidi tre che scavavano con un fuscello dentro un ovo sodo credendo di scoprirvi dei tesori e lo spande a mezzo per terra e poi lo raccoglievano briciolo per briciolo con grande pazienza come se fossero perle e a quelli che avevano qualcosa di straordinario c'erano intorno otto o dieci col capo chino a guardar nel paniere come avrebbero guardato la luna nel pozzo ci saranno stati venti intorno a un batuffoletto alto così che aveva in mano un cartoccino di zucchero tutti a fargli cerimonie per avere il permesso di intingere il pane e lui a certi lo dava e ad altri pregato bene non imprestava che il dito da succhiare intanto mia madre era venuta nel giardino e accarezzava ora l'uno ora l'altro molti le andavano intorno anzi addosso a chiederle un bacio col viso in su come se guardassero a un terzo piano aprendo e chiudendo la bocca come per domandare la cioccia uno le offerse uno spicchio d'arancia morsicchiato un altro una crostina di pane una bimba le diede una foglia un'altra bimba le mostrò con grande serietà la punta dell'indice dove a guardar bene si vedeva un gonfiettino microscopico che sarà fatto il giorno prima toccando la fiammella della candela le mettevano sotto gli occhi come grandi meraviglie degli insetti piccolissimi che non so come facessero a vederli e a raccoglierli dei mezzi tappi di sughero dei bottoncini di camicia dei fiorellini strappati dai vasi un bambino con la testa fasciata che voleva essere sentito a ogni costo le tartagliò non so che storia di un capitombolo che non se ne capì una parola un altro volle che mia madre si chinasse e le disse nell'orecchio mio padre fa le spazzole e in quel frattempo accadevano qua e là mille disgrazie che facevano accorrere le maestre bambine che piangevano perché non potevano disfare un nodo del fazzoletto altre che si disputavano a un ghiate e a strilli due semi di mela un bimbo che era caduto bocconi sopra un panchettino rovesciato e si inghiozzava su quella rovina senza potersi rialzare prima ad andar via mia madre ne prese in braccio tre o quattro e allora corsero da tutte le parti per farsi pigliare quei visi tinti di torlo d'ovo e di sugo d'arancia e chi a afferrarle le mani chi a prenderle un dito per veder l'anello l'uno a tirarle la catenella dell'orologio l'altro a volerla acchiappare per le trecce badi dicevano le maestre che le sciupano tutto il vestito ma mia madre non importava nulla del vestito e continuò a baciarli e quelli sempre più a serrarlesi addosso i primi con le braccia tese come se volessero arrampicarsi i lontani cercando di farsi innanzi tra la calca e tutti gridando addio 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 infine le riuscì di scappare dal giardino e allora corsero tutti a mettere il viso tra i ferri della cancellata per vederla passare e a cacciare le braccia fuori per salutarla offrendo ancora tozzi di pane bocconcini di nespola e croste di formaggio e gridando tutti insieme addio 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 ritorna domani vieni un'altra volta mia madre scappando fece ancora scorrere una mano su quelle cento manine tese come sopra una ghirlanda di rose vive e finalmente riuscì in salvo sulla strada tutta coperta di briciole e di macchie sgualcita e scarmigliata con una mano piena di fiori e gli occhi gonfi di lacrime contenta come se fosse uscita da una festa e si sentiva ancora il vocio di dentro come un gran pigliare d'uccelli che dicevano addio addio vieni un'altra volta madama alla ginnastica 5 mercoledì il tempo continuando bellissimo ci hanno fatto passare dalla ginnastica del camerone a quella degli attrezzi in giardino garrone era ieri nell'ufficio del direttore quando venne la madre di nelli quella signora bionda e vestita di nero per far dispensare il figliuolo dei nuovi esercizi ogni parola le costava uno sforzo e parlava tenendo una mano sul capo del suo ragazzo egli non può disse il direttore mannelli si mostrò così addolorato di essere escluso dagli attrezzi da aver quella umiliazione di più vedrai mamma diceva che farò come gli altri sua madre lo guardava in silenzio con un'aria di pietà e di affetto poi osservò con esitazione temo dei suoi compagni voleva dire temo che lo burlino mannelli rispose non mi fa nulla e poi c'è garrone mi basta che ci sia lui che non rida e allora lo lasciarono venire il maestro quello della ferita al collo che è stato con garibaldi ci condusse subito alle sbarre verticali che sono alte molto e bisognava arrampicarsi fino in cima e mettersi ritti sull'asse trasversale de rossi e corretti andaron su come due vertucce anche il piccolo precossi salì svelto benché impacciato da quel giacchettone che gli dà alle ginocchia e per farlo ridere mentre saliva tutti gli ripeteano il suo intercalare scusami scusami stardi sbuffava diventava rosso come un tacchino stringeva i denti che pareva un cane arrabbiato ma anche a costo di scoppiare sarebbe arrivato in cima e ci arrivò infatti e nobis pure e quando fu lassù prese un'impostatura da imperatore ma votini sdrucciolò due volte nonostante il suo bel vestito nuovo a righette azzurre fatto apposta per la ginnastica per salir più facile si erano tutti impiastrati le mani di pece greca colofonia come la chiamavano e si sa che è quel trafficone di garoffi che la provvede a tutti in polvere vendendola un soldo al cartoccio e guadagnandoci un tanto poi toccò garrone che salì masticando pane come se niente fosse e credo che sarebbe stato capace di portare su un di noi sulle spalle da tanto che è tarchiato e forte quel toretto dopo garrone ecco nelli appena lo videro attaccarsi alla sbarra con quelle mani lunghe e sottili molti cominciarono a ridere e a canzonare ma garrone incrociò le sue grosse braccia sul petto e saettò intorno un'occhiata così espressiva fece intender così chiaro che avrebbe allungato subito quattro briscole anche in presenza del maestro che tutti smisero di ridere sul momento nelli cominciò a arrampicarsi stentava poverino faceva il viso pavonazzo respirava forte gli colava il sudore dalla fronte il maestro disse vieni giù ma egli no si sforzava sostinava io mi aspettavo da un momento all'altro di vederlo ruzzolar giù mezzo morto povero nelli pensavo se fossi stato come lui e m'avesse visto mia madre come ne avrebbe sofferto povera mia madre e pensando a questo li volevo così bene a nelli avrei dato non so che perché riuscisse a salire per poterlo sospingere io per di sotto senza esser veduto intanto garrone dei rossi coretti dicevano su su nelli forza ancora un tratto coraggio e nelli fece ancora uno sforzo violento mettendo un gemito e si trovò a due palmi dall'asse bravo gridarono gli altri coraggio ancora una spinta ed ecco nelli afferrato all'asse tutti batterono le mani bravo disse il maestro ma ora basta scendi pure mannelli volle salir fino in cima come gli altri e dopo un po di stento riuscì a mettere i gomiti sull'asse poi le ginocchia poi i piedi infine si levò ritto e ansando e sorridendo ci guardò noi tornammo a batter le mani e allora egli guardò nella strada io mi voltai da quella parte e attraverso alle piante che coprono la cancellata del giardino vidi sua madre che passeggiava sul marciapiede senza osar di guardare nelli discese e tutti gli fecero festa era eccitato roseo gli splendeva gli occhi non pareva più quello poi all'uscita quando sua madre gli venne incontro gli domandò un po inquieta abbracciandolo ebbene povero figliuolo come è andata come è andata tutti i compagni risposero insieme ha fatto bene è salito come noi è forte sa è lesto fatale quale come gli altri bisogna vederla allora la gioia di quella signora ci volle ringraziare e non poté strinse la mano a tre o quattro fece una carezza a garrone si portò via il figliuolo e li vedemmo per un pezzo camminare in fretta discorrendo e gestendo fra loro tutti e due contenti come non li avea mai visti nessuno il maestro di mio padre 11 martedì che bella gita feci ieri con mio padre ecco come ieri l'altro a desinare leggendo il giornale mio padre uscì tutta un tratto in un'esclamazione di meraviglia poi disse è io che lo credevo morto da vent'anni sapete che è ancora vivo il mio primo maestro elementare vincenzo crosetti che ha 84 anni vedo qui che il ministero gli ha dato la medaglia di benemerenza per 60 anni di insegnamento 60 anni capite e non son che due anni che ha smesso di far scuola povero crosetti sta a un'ora di strada ferrata di qui a condove nel paese della nostra antica giardiniera della villa di chieri e soggiunse enrico noi andremo a vederlo e per tutta la sera non parlò più che di lui il nome del suo maestro elementare gli richiamava alla memoria mille cose di quando era ragazzo dei suoi primi compagni della sua mamma morta crosetti esclamava aveva 40 anni quando ero con lui mi pare ancora di vederlo uno metto già un po curvo con gli occhi chiari col viso sempre sbarbato severo ma di buone maniere che ci voleva bene come un padre e non ce ne perdonava una era venuto su da contadino a furia di studio e di privazioni un galantuomo mia madre gli era affezionata e mio padre lo trattava come un amico come è andato a finire a condove e da torino non mi riconoscerà più certamente non importa io riconoscerò lui 44 anni sono passati 44 anni enrico andremo a vederlo domani e ieri mattina alle 9 eravamo alla stazione della strada ferrata di susa io avrei voluto che venisse anche garrone ma egli non poté perché alla mamma malata era una bella giornata di primavera il treno correva fra i prati verdi e le più in fiore e si sentiva un'aria odorosa mio padre era contento e ogni tanto mi metteva un braccio intorno al collo e mi parlava come a un amico guardando la campagna povero crosetti diceva è lui il primo uomo che mi volle bene e che mi fece del bene dopo mio padre non li ho mai più dimenticati certi suoi buoni consigli e anche certi rimproveri secchi che mi facevano tornare a casa con la gola stretta aveva certe mani grosse e corte lo vedo ancora quando entrava nella scuola che metteva la canna in un canto e appendeva il mantello all'attaccapanni sempre con quello stesso gesto e tutti i giorni il medesimo umore sempre coscienzioso pieno di buon volere e attento come se ogni giorno facesse scuola per la prima volta lo ricordo come lo sentissi adesso quando mi gridava bottini e bottini l'indice il medio su quella penna sarà molto cambiato dopo 44 anni appena arrivati a condove andammo a cercare la nostra antica giardiniera di chieri che ha una botteguccia in un vicolo la trovammo coi suoi ragazzi ci fece molta festa ci diede notizie di suo marito che deve tornare dalla grecia dove a lavorare da tre anni e della sua prima figliuola che è nell'istituto dei sordomuti a torino poi ci insegnò la strada per andare dal maestro che è conosciuto da tutti uscimmo dal paese e pigliamo per una viottola in salita fiancheggiata di siepi fiorite mio padre non parlava più pareva tutto assorto nei suoi ricordi e ogni tanto sorrideva e poi scoteva la testa all'improvviso si fermò e disse eccolo scommetto che è lui veniva giù verso di noi per la viottola un vecchio piccolo con la barba bianca con un cappello largo appoggiandosi a un bastone strascicava i piedi e gli tremavano le mani è lui ripete mio padre affrettando il passo quando li fumo vicini ci fermammo il vecchio pure si fermò e guardò mio padre aveva il viso ancora fresco e gli occhi chiari e vivi e lei domandò mio padre levandosi il cappello il maestro vincenzo crosetti il vecchio pure si levò il cappello e rispose sono io con una voce un po tremola ma piena ebbene disse mio padre pigliandogli una mano permetta un suo antico scolaro di stringerle la mano e di domandarle come sta io son venuto da torino per vederla il vecchio lo guardò stupito poi disse mi fa troppo onore non so quando mio scolaro mi scusi il suo nome per piacere mio padre disse il suo nome alberto bottini e l'anno che era stato a scuola da lui e dove esso giunse lei non si ricorderà di me è naturale ma io riconosco lei così bene il maestro chinò il capo e guardò in terra pensando e mormorò due o tre volte il nome di mio padre il quale intanto lo guardava con gli occhi fissi e sorridenti a un tratto il vecchio alzò il viso con gli occhi spalancati e disse lentamente alberto bottini il figliuolo dell'ingegnere bottini quello che stava in piazza della consolata quello rispose mio padre tendendo le mani allora disse il vecchio mi permetta caro signore mi permetta e fattosi innanzi abbracciò mio padre la sua testa bianca gli arrivava appena alla spalla mio padre appoggiò la guancia sulla sua fronte abbiate la bontà di venire con me disse il maestro e senza parlare si voltò e riprese il cammino verso casa sua in pochi minuti arrivammo a un'aia davanti a una piccola casa con due usci intorno a uno dei quali c'era un po di muro imbiancato il maestro aperse il secondo e ci fece entrare in una stanza erano quattro pareti bianche in un canto un letto a cavalletti con una coperta a quadretti bianchi e turchini in un altro un tavolino con una piccola libreria quattro seggiole e una vecchia carta geografica inchiodata una parete si sentiva un buon odore di mele sedemmo tutti e tre mio padre e il maestro si guardarono per qualche momento in silenzio bottini esclamò poi il maestro fissando gli occhi sul pavimento a mattoni dove il sole faceva uno scacchiere oh mi ricordo bene la sua signora madre era una così buona signora lei il primo anno è stato per un pezzo nel primo banco a sinistra vicino alla finestra guardi un po se mi ricordo vedo ancora la sua testa ricciuta poi stette un po pensando era un ragazzo vivo è molto il secondo anno è stato malato di croup mi ricordo quando lo riportarono alla scuola dimagrato ravvolto in uno scialle sono passati 40 anni non è vero è stato buono tanto a ricordarsi del suo povero maestro e ne vennero degli altri sa gli anni addietro a trovarmi qui dei miei antichi scolari un colonnello dei sacerdoti vari signori domandò mio padre qual era la sua professione poi disse mi rallegro mi rallegro di cuore la ringrazio ora poi era un pezzo che non vedevo più nessuno e ho ben paura che lei sia l'ultimo caro signore che dice mai esclamò mio padre lei sta bene è ancora vegeto non deve dire questo e no rispose il maestro vede questo tremito e mostrò le mani questo è un cattivo segno mi prese tre anni fa quando facevo ancora scuola da principio non ci badai credevo che sarebbe passato ma invece restò e andò crescendo venne un giorno che non potei più scrivere a quel giorno quella prima volta che feci uno sgorbio sul quaderno di un mio scolaro fu un colpo al cuore per me caro signore tirei bene ancora avanti per un po di tempo ma poi non potei più dopo 60 anni di insegnamento dovetti dare un addio alla scuola gli scolari al lavoro e fu dura sa fu dura l'ultima volta che feci lezione mi accompagnarono tutti a casa mi fecero festa ma io ero triste capivo che la mia vita era finita già l'anno prima avevo perso mia moglie e il mio figliuolo unico non restai che con due nipoti contadini ora vivo di qualche centinaio di lire di pensione non faccio più nulla le giornate mi par che non finiscano mai la mia sola occupazione vede è di sfogliare i miei vecchi libri di scuola delle raccolte di giornali scolastici qualche libro che mi hanno regalato ecco lì disse accennando la piccola libreria lì ci sono i miei ricordi tutto il mio passato non mi resta altro al mondo poi in tono improvvisamente allegro io le voglio fare una sorpresa caro signor bottini salzò e avvicinatosi al tavolino ha perso un cassetto lungo che conteneva molti piccoli pacchi tutti legati con un cordoncino e su ciascuno c'era scritta una data di quattro cifre dopo aver cercato un poco ne ha perso uno sfogliò molte carte tirò fuori un foglio ingiallito e lo porse mio padre era un suo lavoro di scuola di 40 anni fa c'era scritto in testa alberto bottini dettato 3 aprile 1838 mio padre riconobbe subito la sua grossa scrittura di ragazzo e si mise a leggere sorridendo ma a un tratto gli si inumidirono gli occhi io m'alzai domandandogli che cosa aveva egli mi passò un braccio intorno alla vita e stringendomi al suo fianco mi disse guarda questo foglio vedi queste sono le correzioni della mia povera madre essa mi rinforzava sempre gli l e i t e le ultime righe sono tutte sue aveva imparato a imitare i miei caratteri e quando io ero stanco e avevo sonno terminava il lavoro per me santa madre mia e baciò la pagina ecco disse il maestro mostrando gli altri pacchi le mie memorie ogni anno io ho messo da parte un lavoro di ciascuno dei miei scolari e sono tutti qui ordinati e numerati alle volte li sfoglio così e leggo una riga qua e una là e mi tornano in mente mille cose mi par di rivivere nel tempo andato quanti ne sono passati caro signore io chiudo gli occhi e vedo visi dietro visi classi dietro classi centinaia e centinaia di ragazzi che chissà quanti sono già morti di molti mi ricordo bene mi ricordo bene dei più buoni e dei più cattivi di quelli che mi hanno dato molte soddisfazioni e di quelli che mi hanno fatto passare dei momenti tristi perché ci ho avuto anche dei serpenti si sa in un così gran numero ma oramai lei capisce come se fossi già nel mondo di là e voglio bene a tutti ugualmente si rimise a sedere e prese una delle mie mani fra le sue e di me domandò mio padre sorridendo non si ricorda nessuna monelleria di lei signore rispose il vecchio sorridendo pure no per il momento ma questo non vuol mica dire che non me ne abbia fatte lei però aveva giudizio era serio per l'età sua mi ricordo la grande affezione che le aveva la sua signora madre ma è stato ben buono ben gentile a venirmi a trovare come ha potuto lasciare le sue occupazioni per venire da un povero vecchio maestro senta signor crosetti rispose mio padre vivamente io mi ricordo la prima volta che la mia povera madre mi accompagnò alla sua scuola era la prima volta che doveva separarsi da me per due ore e lasciarmi fuori di casa in altre mani che quelle di mio padre nelle mani di una persona sconosciuta insomma per quella buona creatura la mia entrata nella scuola era come l'entrata nel mondo la prima di una lunga serie di separazioni necessarie e dolorose era la società che le strappava per la prima volta il figliuolo per non renderglielo mai più tutto intero era commossa ed io pure mi raccomandò a lei con la voce che le tremava e poi andando se ne mi salutò ancora per lo spiraglio dell'uscio con gli occhi pieni di lacrime e proprio in quel punto lei fece un atto con una mano mettendosi l'altra sul petto come per dirle signora si fidi di me ebbene quel suo atto quel suo sguardo da cui mi accorsi che lei aveva capito tutti i sentimenti tutti i pensieri di mia madre quello sguardo che voleva dire coraggio quell'atto che era un'onesta promessa di protezione d'affetto di indulgenza io non l'ho mai scordato ma è rimasto scolpito nel cuore per sempre ed è quel ricordo che mi ha fatto partire da torino ed eccomi qui dopo 44 anni a dirle grazie caro maestro il maestro non rispose mi accarezzava i capelli con la mano e la sua mano tremava tremava mi saltava dai capelli sulla fronte dalla fronte sulla spalla intanto mio padre guardava quei muri nudi quel povero letto un pezzo di pane un'ampollina d'olio che erano sulla finestra e pareva che volesse dire povero maestro dopo 60 anni di lavoro è questo tutto il tuo premio ma il buon vecchio era contento e ricominciò a parlare con vivacità della nostra famiglia di altri maestri di quegli anni e dei compagni di scuola di mio padre il quale di alcuni si ricordava e di altri no e l'uno dava all'altro delle notizie di questo e di quello quando mio padre ruppe la conversazione per pregare il maestro di scendere in paese a far colazione con noi e gli rispose con espansione la ringrazio la ringrazio ma pareva incerto mio padre gli prese tutte e due le mani e lo ripregò ma come farò a mangiare disse il maestro con queste povere mani che ballano in questa maniera è una penitenza anche per gli altri noi l'aiuteremo maestro disse mio padre e allora accettò tentennando il capo e sorridendo una bella giornata questa disse chiudendo l'uscio di fuori una bella giornata caro signor bottini le accerto che me ne ricorderò finché avrò vita mio padre diede il braccio al maestro questi prese per mano me e discendemmo per la viottola incontrammo due ragazzine scalze che conducevano le vacche e un ragazzo che passò correndo con un gran carico di paglia sulle spalle il maestro ci disse che erano due scolare uno scolaro di seconda che la mattina menavano le bestie a pasturare e lavoravano nei campi a piedi nudi e la sera si mettevano le scarpe e andavano a scuola era quasi mezzogiorno non incontrammo nessun altro in pochi minuti arrivamo all'albergo ci sedemmo a una gran tavola mettendo in mezzo il maestro e cominciamo subito a far colazione l'albergo era silenzioso come un convento il maestro era molto allegro e la commozione gli accresceva il tremito non poteva quasi mangiare ma mio padre gli tagliava la carne gli rompeva il pane gli metteva il sale nel tondo per bere bisognava che tenesse il bicchiere con due mani e ancora gli batteva nei denti ma discorreva fitto con calore dei libri di lettura di quando era giovane degli orari dall'ora degli elogi che gli avevano fatto i superiori dei regolamenti di quest'ultimi anni sempre con quel viso sereno un poco più rosso di prima e con una voce gaia e il riso quasi d'un giovane e mio padre lo guardava lo guardava con la stessa espressione con cui lo sorprendo qualche volta a guardar me in casa quando pensa e sorride da sé col viso inclinato da una parte il maestro si lasciò andar del vino sul petto mio padre salzò e lo ripulì col tovagliolo ma no signore non permetto e gli disse e rideva diceva delle parole in latino e infine alzò il bicchiere che gli ballava in mano e disse serio serio alla sua salute dunque caro signor ingegnere ai suoi figlioli alla memoria della sua buona madre alla vostra mio buon maestro rispose mio padre stringendogli la mano e in fondo alla stanza c'era l'albergatore ed altri che guardavano e sorridevano in una maniera come se fossero contenti di quella festa che si faceva al maestro del loro paese alle due passate uscimmo e il maestro ci volle accompagnare alla stazione mio padre gli diede di nuovo il braccio ed egli mi riprese per la mano io gli portai il bastone la gente si soffermava a guardare perché tutti lo conoscevano alcuni lo salutavano a un certo punto della strada sentimmo da una finestra molte voci di ragazzi che leggevano insieme compitando il vecchio si fermò e parve che si rattristasse ecco caro signor bottini disse quello che mi fa pena è sentir la voce dei ragazzi nella scuola e non esserci più pensare che c'è un altro l'ho sentita per 60 anni questa musica e ci avevo fatto il cuore ora sono senza famiglia non ho più figliuoli no maestro gli disse mio padre ripigliando il cammino lei ce n'ha ancora molti figliuoli sparsi per il mondo che si ricordano di lei come io me ne sono sempre ricordato no no rispose il maestro con tristezza non ho più scuola non ho più figliuoli e senza figliuoli non vivrò più un pezzo ad assonar presto la mia ora non lo dica maestro non lo pensi disse mio padre in ogni modo lei ha fatto tanto bene ha impiegato la vita così nobilmente il vecchio maestro inclinò un momento la testa bianca sopra la spalla di mio padre e mi diede una stretta alla mano eravamo entrati nella stazione il treno stava per partire addio maestro disse mio padre baciandolo sulle due guance addio grazie addio rispose il maestro prendendo con le sue mani tremanti una mano di mio padre e stringendosela sul cuore poi lo baciai io e gli sentì il viso bagnato mio padre mi spinse nel vagone e al momento di salire levò rapidamente il rozzo bastone di mano al maestro e gli mise invece la sua bella canna col pomo d'argento e le sue iniziali dicendogli la conservi per mia memoria il vecchio tentò di renderla e di riprenderla sua ma mio padre era già dentro e aveva richiuso lo sportello addio mio buon maestro addio figliuolo rispose il maestro mentre il treno si muoveva e dio la benedica per la consolazione che ha portato a un povero vecchio arrivederci gridò mio padre con voce commossa ma il maestro crollò il capo come per dire non ci rivedremo più sì sì ripete mio padre arrivederci e quegli rispose alzando la mano tremola al cielo lassù e disparve al nostro sguardo così con la mano in alto convalescenza 20 giovedì chi m'avrebbe detto quando tornavo così allegro da quella bella gita con mio padre che per dieci giorni non avrei più visto né campagna né cielo sono stato molto malato in pericolo di vita ho sentito mia madre singhiozzare ho visto mio padre pallido pallido che mi guardava fisso e mia sorella silvia e mio fratello che discorrevano a bassa voce e il medico con gli occhiali che era ogni momento lì e mi diceva delle cose che non capivo proprio sono stato a un punto dal dare un addio a tutti ah povera mia madre sono passati almeno tre o quattro giorni di cui non mi ricordo quasi nulla come se avessi fatto un sogno imbrogliato e oscuro mi sembra d'aver visto accanto al mio letto la mia buona maestra di prima superiore che si sforzava di soffocar la tosse col fazzoletto per non disturbarmi ricordo così inconfuso il mio maestro che si chinò a baciarmi e mi punse un poco il viso con la barba e ho visto passare come in una nebbia la testa rossa di crossi i riccioli biondi di derossi il calabrese vestito di nero e garrone che mi portò un mandarino con le foglie e scappò subito perché sua madre stava male poi mi destai come da un sonno lunghissimo e capì che stavo meglio vedendo mio padre e mia madre che sorridevano e sentendo silvia che canterellava oh che triste sogno è stato poi ho cominciato a migliorare ogni giorno è venuto il muratorino che mi ha rifatto ridere per la prima volta col suo muso lepre e come lo fa bene ora che gli si è allungato un po il viso per la malattia poveretto è venuto coretti è venuto garoffi a regalarmi due biglietti della sua nuova lotteria per un temperino a cinque sorprese che comprò da un rigattiere di via bertola ieri poi mentre dormivo è venuto precossi e ha messo la guancia sopra la mia mano senza svegliarmi e come veniva dall'officina di suo padre col viso impolverato di carbone mi lasciò l'impronta nera sulla manica che mi ha fatto un gran piacere a vederla quando mi sono svegliato come sono diventati verdi gli alberi in questi pochi giorni e che invidia mi fanno i ragazzi che vedo correre alla scuola coi loro libri quando mio padre mi porta alla finestra ma fra poco ci tornerò io pure sono tanto impaziente di rivedere tutti quei ragazzi il mio banco il giardino quelle strade di sapere tutto quello che è accaduto in questo tempo di rimettermi ai miei libri e i miei quaderni che mi pare un anno che non li vedo più povera mia madre come dimagrata impallidita povero padre mio come all'aria stanca e i miei buoni compagni che sono venuti a trovarmi e camminavano in punta di piedi e mi baciavano in fronte mi fa tristezza ora a pensare che un giorno ci separeremo con de rossi con qualche altro continueremo a far gli studi insieme forse ma tutti gli altri una volta finita la quarta addio non ci vedremo più non li vedrò più accanto al mio letto quando sarò malato garrone precossi corretti tanti bravi ragazzi tanti buoni e cari compagni mai più gli amici operai 20 giovedì perché enrico mai più questo dipenderà da te finita la quarta tu andrai al ginnasio ed essi faranno gli operai ma rimarrete nella stessa città forse per molti anni e perché allora non vavrete più a rivedere quando tu sarai all'università o al liceo li andrai a cercare nelle loro botteghe o nelle loro officine e ti sarà un grande piacere il ritrovare i tuoi compagni di infanzia uomini al lavoro vorrei vedere che tu non andassi a cercare corretti e precossi dovunque fossero tu ci andrai e passerai delle ore in loro compagnia e vedrai studiando la vita e il mondo quante cose potrai imparare da loro che nessun altri ti saprà insegnare e sulle loro arti e sulla loro società e sul tuo paese e bada che se non conserverai queste amicizie sarà ben difficile che tu ne acquisti altre simili in avvenire delle amicizie voglio dire fuori della classe a cui appartieni e così vivrai in una classe sola e l'uomo che pratica una sola classe sociale è come lo studioso che non legge altro che un libro proponiti quindi fin d'ora di conservarti quei buoni amici anche dopo che sarete divisi e coltivali fin d'ora di preferenza appunto perché son figlioli d'operai vedi gli uomini delle classi superiori sono gli ufficiali e gli operai sono i soldati del lavoro ma così nella società come nell'esercito non solo il soldato non è men nobile dell'ufficiale perché la nobiltà sta nel lavoro e non nel guadagno nel valore e non nel grado ma se c'è una superiorità di merito è dalla parte del soldato dell'operaio i quali ricavan dall'opera propria minor profitto ama dunque rispetta soprattutto fra i tuoi compagni i figlioli dei soldati del lavoro onora in essi le fatiche e i sacrifici dei loro parenti disprezza le differenze di fortuna e di classe sulle quali i vili soltanto regolano i sentimenti e la cortesia pensa che uscì quasi tutto dalle vene dei lavoratori delle officine dei campi il sangue benedetto che ci ha redento la patria ama garrone ama precossi ama coretti ama il tuo muratorino che nei loro petti di piccoli operai chiudono dei cuori di principi e giura a te medesimo che nessun cangiamento di fortuna potrà mai strappare queste sante amicizie infantili dall'anima tua giura che se fra 40 anni passando in una stazione di strada ferrata riconoscerai nei panni di un macchinista il tuo vecchio garrone col viso nero ah non m'occorre che tu lo giuri son sicuro che salterai sulla macchina e che gli getterai le braccia al collo fossi anche senatore del regno tuo padre la madre di garrone 29 sabato tornato alla scuola subito una triste notizia da vari giorni garrone non veniva più perché sua madre era malata grave sabato sera è morta ieri mattina appena entrato nella scuola il maestro ci disse al povero garrone è toccata la più grande disgrazia che possa colpire un fanciullo gli è morta la madre domani egli ritornerà in classe vi prego fin d'ora ragazzi rispettate il terribile dolore che gli strazia l'anima quando entrerà salutatelo con affetto e seri nessuno scherzi nessuno rida con lui mi raccomando e questa mattina un po più tardi degli altri entrò il povero garrone mi sentì un colpo al cuore a vederlo era smorto in viso aveva gli occhi rossi e si reggeva male sulle gambe pareva che fosse stato un mese malato quasi non si riconosceva più era vestito tutto di nero faceva compassione nessuno fiatò tutti lo guardarono appena entrato al primo riveder quella scuola dove sua madre era venuta a prenderlo quasi ogni giorno quel banco sul quale si era tante volte chinata i giorni d'esame a fargli l'ultima raccomandazione e dove egli aveva tante volte pensato a lei impaziente d'uscire per correrle incontro diede in uno scoppio di pianto disperato il maestro lo tirò vicino a sé se lo strinse al petto e gli disse piangi piangi pure povero ragazzo ma fatti coraggio tua madre non è più qua ma ti vede tama ancora vive ancora accanto a te e un giorno tu la rivedrai perché sei un'anima buona e onesta come lei fatti coraggio detto questo l'accompagnò al banco vicino a me io non osavo di guardarlo egli tirò fuori i suoi quaderni e i suoi libri che non aveva aperti da molti giorni e aprendo il libro di lettura dove c'è una vignetta che rappresenta una madre col figliuolo per mano scoppiò in pianto un'altra volta e chinò la testa sul banco il maestro ci fece segno di lasciarlo stare così e cominciò la lezione io avrei voluto dirgli qualche cosa ma non sapevo gli misi una mano sul braccio gli dissi all'orecchio non piangere garrone egli non rispose e senza alzar la testa dal banco mise la sua mano nella mia e ve la tenne un pezzo all'uscita nessuno gli parlò tutti gli girarono intorno con rispetto e in silenzio io vidi mia madre che m'aspettava e corsi ad abbracciarla ma essa mi respinse e guardava garrone subito non capì perché ma poi mi accorsi che garrone solo in disparte guardava me e mi guardava con uno sguardo di inesprimibile tristezza che voleva dire tu abbracci tua madre e io non l'abbraccerò più tu hai ancora tua madre e la mia è morta e allora capì perché mia madre mi aveva respinto e uscì senza darle la mano giuseppe mazzini 29 sabato anche questa mattina garrone venne alla scuola pallido e con gli occhi gonfi di pianto e diede appena un'occhiata ai piccoli regali che gli avevamo messi sul banco per consolarlo ma il maestro aveva portato una pagina ad un libro da leggergli per fargli animo prima ci avvertì che andassimo tutti domani al tocco al municipio a veder dare la medaglia del valore civile a un ragazzo che ha salvato un bambino dal po e che lunedì egli ci avrebbe dettato la descrizione della festa in luogo del racconto mensile poi rivoltosi a garrone che stava col capo basso gli disse garrone fa uno sforzo e scrivi anche tu quello che io ho detto tutti pigliamo la penna il maestro detto giuseppe mazzini nato a genova nel 1805 morto a pisa nel 1872 grande anima di patriotta grande ingegno di scrittore ispiratore ed apostolo primo della rivoluzione italiana il quale per amore della patria visse 40 anni povero esule perseguitato ramingo eroicamente immobile nei suoi principi e nei suoi propositi giuseppe mazzini che adorava sua madre e che aveva attinto da lei quanto nella sua anima fortissima e gentile vera di più alto e di più puro così scriveva un suo fedele amico per consolarlo della più grande delle sventure son presso a poco le sue parole amico tu non vedrai mai più tua madre su questa terra questa è la tremenda verità io non mi recuo a vederti perché il tuo è uno di quei dolori solenni e santi che bisogna soffrire e vincere da sé soli comprendi ciò che voglio dire con queste parole bisogna vincere il dolore vincere quello che il dolore ha di meno santo di meno purificatore quello che invece di migliorare l'anima la indebolisce e la bassa ma l'altra parte del dolore la parte nobile quella che ingrandisce innalza l'anima quella deve rimanere con te non lasciarti più mai qua giù nulla si sostituisce a una buona madre nei dolori nelle consolazioni che la vita può darti ancora tu non la dimenticherai mai più ma tu devi ricordarla amarla rattristarti della sua morte in un modo degno di lei o amico ascoltami la morte non esiste non è nulla non si può nemmeno comprendere la vita è vita e segue la legge della vita il progresso tu avevi ieri una madre in terra oggi hai un angelo altrove tutto ciò che è bene sopravvive cresciuto di potenza alla vita terrena quindi anche l'amore di tua madre essa t'ama ora più che mai e tu sei responsabile delle tue azioni a lei più di prima dipende da te dalle opere tue di incontrarla di rivederla in un'altra esistenza tu devi dunque per amore e riverenza a tua madre diventar migliore e darle gioia di te tu dovrai d'ora innanzi ad ogni atto tuo dire a te stesso lo approverebbe mia madre la sua trasformazione ha messo per te nel mondo un angelo custode al quale devi riferire ogni cosa tua sii forte e buono resisti al dolore disperato e volgare abbi la tranquillità dei grandi patimenti nelle grandi anime è ciò che essa vuole garrone soggiunse il maestro sii forte e tranquillo è ciò che essa vuole intendi garrone accennò di sì col capo e intanto gli cadevano delle lacrime grosse e fitte sulle mani sul quaderno sul banco